il mare calmo brillava appena mosso dalla varea sul molo tutta la città di le havre osservava le navi che entravano in porto da lontano si vedevano parecchie grandi navi a vapore incoronate di fumo velieri trainati da rimorchiatori quasi invisibili che alzavano al cielo i loro alberi nudi come una spoglia foresta a ogni punto dell'orizzonte si dirigevano verso la stretta imboccatura del porto che divorava questi mostri che gemevano urlavano fischiavano buttando fuori getti di vapore come una balena sfiatata due giovani ufficiali passeggiavano sul molo affollato di gente salutando ricevendo saluti e fermandosi ogni tanto per chiacchierare a un tratto uno di loro il più alto paul denrissel strinse il braccio del compagno jean renauldi poi disse a bassa voce guarda ecco la signora poncho guardala bene son certo che ti farà gli occhi dolci la signora avanzava al braccio del marito un ricco arbatore era una donna di quasi 40 anni ancora assai bella appena un po' grassa ma rimasta fresca come a 20 anni grazie alla sua florida salute gli amici la chiamavano la dea per il suo portamento maestoso gli immensi occhi neri e la nobiltà di linea di tutto il suo corpo era rimasta onestissima mai neppure un sospetto l'aveva sfiorata era citata come esempio di signora onorabile e semplice tanto degna che nessuno aveva osato pensare a lei eppure da un mese paul denrissel sosteneva che la signora poncho guardava teneramente il suo amico renauldi e insisteva sono certo di non sbagliarmi è chiaro ti ama ti ama con tutta la passione d'una donna casta che non ha mai amato 40 anni un'età terribile per le signore oneste ancora schiave dei sensi impazziscono e fanno pazzie e quella è pazza caro mio cadrà nelle tue braccia come un uccellino ferito guarda guarda una bella signora preceduta dalle figlie che avevano dodici e quindici anni avanzava verso di loro era subito impallidita alla vista dell'ufficiale lo osservava ardentemente con lo sguardo fisso e non sembrava veder più niente intorno a sé né le figlie né il marito né la gente salutò a sua volta i due giovani senza abbassare lo sguardo acceso da una fiamma tanto ardente che al fine un dubbio si fece strada nell'animo del tenente renauldi il suo amico mormorò ne ero certo hai visto adesso? perbacco è ancora un bel pezzo di donna ma già e renauldi non piacevano gli intrighi mondani più che l'amore desiderava una vita calma e si contentava di quei legami occasionali che a un giovanotto capitano sempre tutti quei sentimentalismi, le attenzioni, le tenerezze che esige una donna di classe lo annoiavano la catena per leggera che sia che un'avventura di questo genere ci riserva sempre gli faceva paura diceva dopo un mese sarò già stufo e dovrò aver pazienza per altri sei per essere educato poi lo esasperava il timore di una rottura con le scene e le allusioni inevitabili gli ultimi disperati tentativi dell'abbandonata cercò di non incontrare più la signora Pinchot una sera si trovò vicino a lei durante una cena e sentì senza posa sulla pelle negli occhi e fin nell'anima lo sguardo appassionato della vicina le loro mani si incontrarono e quasi involontariamente si strinsero così cominciava la catena la rivide sempre suo malgrado si sentiva amato si intenerì invaso da una sorta di vanitosa pietà per la violenta passione di quella signora si lasciò dunque adorare e fu appena galante quasi con la speranza di fermarsi ad una relazione sentimentale un giorno lei gli dede un appuntamento per vedersi e parlare in libertà diceva e la cadde svenuta tra le braccia di jeanne che fu costretto in tal modo a diventare il suo amante così passarono sei mesi ella gli volle un bene sfrenato soffocante isolata nella sua fanatica passione non pensava più a nulla si era data interamente anima e corpo reputazione, relazioni, felicità tutto aveva bruciato con la fiamma del suo cuore come si bruciano in un rogo per un sacrificio tutti gli oggetti preziosi il giovane si era stancato invece da parecchio tempo e rimpianzeva amaramente le sue facili conquiste di brillante ufficiale ma era legato trattenuto prigioniero ogni momento del film gli ricordava io t'ho dato tutto che vuoi di più? aveva certo voglia di risponderle ma io non volevo niente ti prego di riprenderti quel che mi hai dato senza preoccuparsi d'essere stata veduta compromessa, perduta tornava da lui ogni sera sempre più infiammata d'amore si slanciava tra le sue brazza lo stringeva forte forte si sdilinquiva in baci esaltati che annoiavano senza scampo jean le diceva stancamente via, sì, ragionevole e la rispondeva ti amo e giù in ginocchio per riamarlo a lungo in pose di adorazione sotto quegli sguardi ostinati egli s'esasperava tentava di rialzarla andiamo mettiti seduta facciamo quattro chiacchiere invece mormorava no lasciami e restava immobile in estasi jean diceva al suo amico del risel spesso avrai voglia di picchiarla non ne posso più non ne posso più bisogna che questa storia finisca e presto poi aggiungeva che mi consigli di fare e l'altro rompi tutto rinaldi alzava le spalle è facile a dirsi credi che sia una cosa da nulla rompere la relazione con una donna che ti martirizza a forza di premura che ti tortura con le cortesie che ti perseguita con la sua tenerezza e la cui sola cura è di piacerti l'unico torto d'essersi data a tuo malgrado ma una mattina all'improvviso si sparse la notizia che il reggimento avrebbe cambiato di guarnigione allora rinaldi si mise a ballare dalla gioia era salvo salvo senza scenate senza grida salvo non si trattava ormai che d'aspettare un paio di mesi salvo la sera che l'andò da lui ancora più saltata del solito già conosceva la tremenda notizia e senza togliersi il cappello afferrandogli le mani e stringendogli nervosamente guardandolo negli occhi con voce vibrante e decisa tu stai per partire lo so disse da prima fu come se il cuore mi si spezzasse ma dopo ho capito quello che dovevo fare e ho deciso voglio darti la più grande prova d'amore che una donna possa offrire ti seguo per te lascio mio marito i figli la famiglia mi perdo ma sono felice è come se mi dessi a te di nuovo è l'ultimo il più grande sacrificio sono tua per sempre e gli avvertì un sudore freddo per la schiena e fu assalito da un'ira sorda e furiosa da una collera impotente tuttavia si dominò e con aria indifferente parlando con dolcezza rifiutò il suo sacrificio cercò di calmare con sereni ragionamenti la sua follia e la lo ascoltava in silenzio con gli occhi neri fissi nel viso di lui e con una smorfia sdegnosa sulle labbra quando ebbe finito gli disse soltanto di sai forse un vile uno di quelli che seducono una donna e poi l'abbandonano per capriccio rinaldi impallidì e poi riprese a ragionare le disse come una simile azione avrebbe avuto inevitabili conseguenze fino alla loro morte la vita infranta ogni strada chiusa nella società ma lei rispondeva ostinatamente che importa quando si ama allora lui alla fine proruppe ebbene no io non voglio capisci non voglio io e te lo proibisco poi trasportato da un suo vecchio disamore vuotò il proprio animo e perbacco è già molto tempo che mi vuoi bene per forza non ci mancherebbe altro che ti conducessi con me grazia 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 santi Dio lei non rispose ma il suo volto illividito ebbe una lenta e dolorosa contrazione come se tutti i nervi e i muscoli si fossero ritorti infine se ne andò senza salutarlo quella stessa notte si avvelenò per otto giorni stette tra la vita e la morte e intanto in città chiacchieravano tutti ne avevano compassione giustificando tale colpa con la violenza della sua passione poiché i sentimenti non alti quando siano sublimati dal loro stesso impeto si fanno sempre perdonare in ciò che hanno di biasimevole una donna che si uccide non può chiamarsi adultera e ben presto contro il tenente Renault D che si rifiutava di rivederla si levò un generale rimprovero un unanime senso di condanna si raccontava che l'avesse abbandonata tradita percossa il colonnello preso da pietà per lei ne parlò appena al suo ufficiale alludendo con discrezione Paul de Rissell andò a far visita all'amico ma santo cielo non si lascia morire una donna mio caro non è davvero elegante l'altro esasperato ingiunse di tacere appena quello pronunciò la parola infamia si batterono a duello Renault D venne ferito con soddisfazione di tutti e dovette starsene a letto per molto tempo e la venne a saperlo e la mò di più ancora credendo che si fosse battuto per lei ma essendole impossibile lasciare la propria camera non poteva rivederlo prima della partenza del reggimento lui era da tre mesi all'illà quando un giorno ebbe la visita di una giovane la sorella della sua antica amante dopo molte sofferenze e una crisi di disperazione che non aveva saputo vincere la signora Poncho stava per morire era condannata senza rimedio e lo voleva vedere per un istante solo un istante prima di chiudere gli occhi per sempre la lontananza al passar del tempo avevano spento lì l'esasperata del giovanotto fu commosso pianse e partì per le avre lei sembrava in agonia li lasciarono soli ed egli ebbe sul letto della donna che aveva indirettamente ucciso una crisi di dolore terribile singhiozzando la baciò con appassionata tenerezza come mai aveva fatto con lei no no balbettava tu non morirai guarirai ci ameremo ci ameremo sempre lei murmurò è vero mi ami e lui nella sua desolazione giurò promise di attenderla appena fosse guarita indugiò commosso nel baciare le mani sottili dell'inferma il cui cuore batteva disordinatamente il giorno dopo ripartì per la guarnigione sei settimane più tardi lei lo raggiunse invecchiata irriconoscibile e più innamorata che mai fuori di sé lui la riprese poi convivendo insieme come una coppia unita legalmente lo stesso colonnello che si era indignato per l'abbandono insorse contro questa situazione illegittima incompatibile col buon esempio che gli ufficiali devono dare in un reggimento ammonì da prima il suo subordinato poi lo redarguisse veramente e rinaldi diede le dimissioni andarono a vivere in una villa sulle rive del mediterraneo il mare classico degli amanti e altri tre anni passarono rinaldi curvo sotto il gioco era vinto a sue fatto a quella perseverante tenerezza lei metteva ora i primi capelli bianchi jean si considerava uomo finito senza speranza ogni aspirazione ogni carriera ogni soddisfazione ogni gioia gli era vietata ma un giorno gli venne consegnato un biglietto da visita joseph poichot armatore le havre il marito il marito che non aveva mai detto niente comprendendo che non era possibile combattere contro le disperate ostinazioni femminili che voleva egli attendeva nel giardino dopo aver rifiutato d'entrare nella villa salutò gentilmente ma non accettò di sedere neppure nella panchina di un viale e prese a parlare con chiara lentezza signore non sono venuto per muovervi dei rimproveri so troppo bene come sono andate le cose ho soggiaciuto noi abbiamo soggiaciuto a una specie di di fatalità non vi avrei mai disturbato in casa vostra se la situazione non fosse cambiata ho due figlie signore una di loro la maggiore ama un giovane e ne è riamata ma la famiglia di lui soppone al matrimonio a causa della situazione della madre della figlia non provo né ira né rancore ma io adoro le mie figlie signore vengo dunque a chiedervi di riavere mia mia moglie spero che oggi acconsentirà di entrare a casa mia a casa sua quanto a me farò finta di aver dimenticato per per le mie figliuole Rinaldi sentì un colpo violento di percuotersi nel cuore e fu inondato da un delirio di gioia come un condannato che riceva la grazia balbettò ma sì certamente signore io stesso credetemi senza dubbio è giusto troppo giusto e aveva voglia di afferrare le mani di quel uomo di stringerlo tra le braccia di baciarlo sulle guance entrate via disse starete meglio in salotto io vado a cercarla stavolta il signor Poanchot non volle rifiutare e si mise a sedere Rinaldi salì le scale a 4 a 4 e poi davanti alla porta dell'amante si ricompose ed entrò tutto serio ti cercano giù disse è per una comunicazione che riguarda le tue figlie e si alzò le mie figlie che c'è? che c'è mai? sono forse morte? no rispose il giovane ma è una faccenda seria che solo tu puoi risolvere e lei non ascoltò altro ed iscese rapida lui allora si gettò sopra una sedia agitatissimo e attese attese a lungo molto a lungo poi quando voci rose salirono fino a lui dal basso si risolse a scendere la signora Poanchot era in piedi smaniante nell'atto ad uscire dalla stanza mentre il marito la tratteneva per la veste ripetendo ma non capisci dunque che così perdi le nostre figlie le tue figlie le nostre bambine non rientrerò più in casa tua rispondeva con ostinazione Renoldi comprese tutto si avvicinò ai due quasi sentendosi mancare e mormorò come? rifiuta? la donna gli si rivolse e senza dargli del tu davanti allo sposo legittimo per una specie di pudore sapete che vuole? disse che io ritorni sotto il suo tetto e rideva amaramente sdegnata per l'uomo quasi inginocchiato che la supplicava allora Renoldi con la risoluzione improvvisa di uno che gioca disperatamente la sua ultima carta prese a parlare a sua volta difese la causa di quelle figlie infelici la causa del marito e la sua causa e quando si interrogava cercando un nuovo argomento il signor Pinchot a corto di espedienti mormorava dandole del tu per il ritorno a una vecchia abitudine istintiva su via del fin pensa alle tue creature lei allora li osservò a lungo con uno sguardo di sovrano disprezzo poi fuggendo con slancio su per le scale esclamò siete due miserabili rimasti soli essi si guardarono un momento tutti e due ugualmente abbattuti addolorati il signor Pinchot raccolse il cappello caduto vicino a Renaudy spolverò con la mano i ginocchi diventati bianchi a contatto del pavimento poi con un gesto disperato mentre jean gli faceva strada verso la porta disse nel salutarlo siamo molto infelizi signore e s'allontanò con passo pesante app s'allontanò kidnapped Grazie a tutti